Oggi vi porto con me sul cammello e poi a vedere la barriera corallina. Siamo al penultimo giorno di vlog del mio viaggio in Giordania. Colazione con i beduini nel deserto e poi proseguiamo la nostra esperienza andando verso il villaggio l'ultima ora con i cammelli. In realtà erano bromedari e il deserto ne era pieno. Arrivati al villaggio abbiamo preso la macchina e siamo arrivati all'ultima tappa del nostro tour che è la città giordana sul Mar Rosso, Aqaba. Abbiamo passato il pomeriggio in spiaggia, privata per questioni religiose, e poi abbiamo deciso di fare un tour su una barca dove per un'ora si vedeva grazie al fondo aperto il fondale, i relitti e la barriera corallina. E per un'altra ora invece abbiamo fatto snorkeling. Finito tutto ci siamo diretti al nostro hotel. Anche qui essendo bassa stagione ci hanno fatto l'upgrade alla Junior Suite, un hotel 5 stelle tra l'altro bellissimo, non me l'aspettavo, con vista proprio sul porto di Aqaba. Città tra l'altro molto carina, meno storica ma più lussuosa. Abbiamo girato per l'hotel e poi ci siamo fatti un giro per Aqaba facendo l'ultima cena tipica. Poi il giorno dopo 4 ore di macchina per tornare ad Amman e prendere il volo.